Il sindaco di Cosenza Mario Chiuto alla scadenza dei primi due anni di amministrazione ha relazionato in consiglio comunale sullo stato di attuazione del suo programma di governo che dopo il periodo di progettazione è già passato alla fase di realizzazione di progetti definiti dallo stesso primo cittadino rivoluzionari. Prima di passare ad illustrare le attività realizzate il sindaco ha sottolineato la rivoluzione culturale che si sta cercando di compiere per ridare centralità al capoluogo Bruzio. Qualcuno mi ha accusato di essere Cosenza Centrico, in realtà è vero, lo sono, quindi è una cosa che non posso rinnegare però è un'accusa che prendo volentieri perché questa città ha ripreso ad essere punto di attrazione anche per un'area urbana più grande, per la provincia. Abbiamo una città scenaria di eventi culturali e teatro di spettacolo e manifestazioni all'aperto durante tutto l'anno e stiamo facendo un'attività consistente per tenere viva questa città in un momento difficilissimo. Subito dopo, supportato da oltre 300 slide, il sindaco per oltre tre ore ha relazionato sui due anni di governo iniziando da ciò che già è stato fatto. Abbiamo rivoluzionato i servizi, re-ingegnerizzato adesso con la nuova gara tutti i servizi di manutenzione della città attraverso le cooperative. Abbiamo lavorato molto sul ciclo dei rifiuti, avviando la raccolta differenziata che ha come obiettivo il riciclo dei materiali. Abbiamo lavorato molto sul sistema di trasporto pubblico urbano con le circolari veloci. Stiamo facendo i lavori per l'efficientamento della rete idrica. Nel primo novembre partirà tutto l'efficientamento della rete di illuminazione pubblica. Abbiamo quindi svolto un'attività consistente in tutti i servizi. Il sindaco ha illustrato poi i grandi progetti in itinere. Abbiamo appaltato in pochi mesi una grande opera di riqualificazione dalla città con piazza Bilotti, che è una piazza-museo con parcheggio interrato a servizio anche dei commercianti lungo tutto l'asse pedonale di Corso Mazzini e anche del lungo fiume di Corso Talesi. Oltre alle opere materiali, moltissimi finanziamenti recuperati per la prima volta in questa città, altri 50 milioni di euro già appaltati e altri che stiamo per consegnare alle imprese, abbiamo anche un finanziamento per le opere materiali, Cosenza Città Smart City, unica città in Calabria che riesce ad arrivare prima in graduatoria sui fondi per l'energia sulle Smart City, insieme a Bari avvia questo progetto importante che è rivolto anche ai giovani ricercatori. Il sindaco Mario Chiuto ha concluso il suo lungo intervento con lo sguardo volto al prossimo futuro della città, quando altri quartieri cambieranno volto, tra questi Vagliolise, che diventerà la porta naturale del commercio e il Rione San Vito che sarà quartiere d'eccellenza per lo sport. Al termine della lunga relazione del sindaco il consiglio si è sciolto, le altre relazioni e la discussione sono state rinviate a lunedì 28 ottobre alle 14.30.